A Reggio Verdi 28, l'imperatore, durante il pranzo, parlava dei po' ricordi e qui venne incontro le navi della Cina, ogni trenta delle quali una in dubbio del tormento per i fa, come li avevano, detto i capitani, tal che venne poco dopo a discorrerli dei pericoli della battaglia che in paragoni gli sembravano molto minori. Vagrum Glifumus innanzi come una delle battaglie più sanguinose, Iperol non credeva che tre mila fossero stati morti, ossia uno per cinquanta. Da ciò che l'esercito francese era di sessanta mila uomini, a essi in quattro mila furono le vittime e l'esercito montava quaranta mila uomini, onde le perdite veramente stavano rovi, uno a dieci, ma si nota che questa si fu una delle battaglie più micidiali, mentre gli altri lo furono infinitamente meno. L'argomento ci trassi a far parola di Polettini, l'imperatore dichiarò che erano di tutta verità, ma non quelle cose che la vicinanza dei nemici comandava di infincere. A Viena ed in Germania si prestava loro maggior fede, che in Francia se nell'esercito dessi erano si acquistata, brutto nomina a segno da rendere, proverbiali, e il motto, bugiardo come un bulletino, ci dipendeva dalla personale rivalità e dallo spirito di parte, se fatta domina, trovava essi fianchiati dall'insinuazione dell'amor proprio di quello che non vi arrano, quantunque chi se ne credessero meritevole nominati pal nostro pezzo di essere i più calli nemici dei nostri successi e della nostra medissima gloria. Insalubrità dell'isola, venerdì venti nuovi, il tempo dorava sempre cattivo, così che non ci era concesso di uscire neppure per ogni istante. La pioggia e l'umidità penetrava entro i nostri appartamenti di cartoni e appunto per questo soffrivamo e molto. La temperatura è che senza dubbio dolce, ma il clima non più è serio, più insalubri. Le abitanti dell'isola raramente vivono sino ai 50 anni e quasi mai sino ai 60 aggiungessi a Gio il nostro isolamento, le privazioni fisiche, i mali trattamenti morali e si vedrà che un prigione in Europa preferiva la libertà di Santa Elena. Verso le quattro ore mi condussero innanzi i vari capitani della flotta della Cina che amavano essere presentati all'imperatore ed essi è vero modo così di vedere la piccolezza. L'umidumi, il pessimo stato della mia stamperca che è serro della salute dell'imperatore, disse più aciora ogni di più loro dispossi non è che glisse nell'agno con la sua gran anima le vince e si agli sul corpo ma lo vediamo noi manifestamente. Dopo li presentai l'imperatore che passeggiava in giardino ed è vero egli mi parevi alterato e sai più dal subito dopo mezz'ora li concedò per rientrare a prendere un bagno. Prima e dopo il pranzo fu abbe tutto il soffrente e cominciò a leggere ci le donne sacci ma il secondo atto dia del libro al gran marisciallo è dormito sul canipè durante il resto della lettura.